tinda arriva da una zona di gitani qui di civilia tinda è una galghetta felice simpatica secondo noi anche una brava attrice visto che ora sta facendo un po la finta della della discreta in realtà una giocherellona allegra però mai fuori luogo bravissima cagnolina brava che brava che sei si mette in posa per l'italia per insieme per fbm perché vuole venire in italia vero tinda cerca casa in italia dai gitani all'italia vieni vuoi venire a fare un giro proviamo a lasciarti libera vediamo un po cos'è non ha voglia è stanca è stanca la tinda a